Io sono Roberto Giaimoffa e benvenuti a un nuovo vlog Dov'è che si fa stasi racconti? Ma mi sembra che c'è una festa della fine d'estate O della fine del mondo La fine del mondo ce la facciamo arrivando Non lo sai E' in total black E' in total white E' in total color Ma questa festa dove la fanno fammi capire In India? No no, in Ucra... A San Giorgio, la Molana E in tutto ciò Andiamo alla festa del fine del mondo Non vogliamo apidano un pacchetto di sigaretella Ci fumiamo una sigaretella Ci facciamo un cocktail Cocticella Cocticella E praticamente questa festa viene fatta In una piazzetta Veramente Non gli ha sommato Nonno Elio Signore, signore E' la messi per terra Non sei venuta per terra No, Gianni Giuseppo Signore, buonasera Allora Allora compagno a Pascinari Bene Bene Allora Con 350 d'altri Grazie Buon amore Buonasera ragazzi Buonasera Caro compagno Alla salute Ciao Che becchioretti Che becchioretti La nostra fotografa Siamo allegri Al Battisti Innamorato Sempre di più In fondo all'anima La nostra fotografa Ho un cavo al culo Vai Ma innanzi alla chiesa Vai dita a chiesa E non te fai alla chiesa Vi lascio sempre il link in descrizione Dell'hamburger piatto del mondo, signori eh Buonasera 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 Che ti fai? Zigaribio 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 Mario Buonasera Senti Salute Vedo pure il bar Fai una cerveza Fai una cerveza Cervezzosa Allora tu sei rumeno Perché il cazzo parli spagnolo Allora Allora tu sei talebano Ma perché? Io l'ho pagolito Se è quasi in bolla Fuggi da Fuggi Non per Fuggi ma per gli Fuggi Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Qui ci sono Sopera in musica A un ruolo sfumore A un ruolo sfumore l'oro A un ruolo sfumore l'oro A un ruolo sfumore l'oro E' Volevo lasciare una massima per questo video Poi metterà la traduzione Roberto Vicino a Parido Fatta la barba Vicino a tuo padre Fatti la barba Al meglio Non si fuma ragazzi Buona serata Ciao Con il nostro caro Mattia Alia Pet DJ Si suonerà questa sera Dopo il Music Hunt Alla festa di fine estate Di San Giorgio La Molara A cui ci troviamo ovviamente E' uno dei migliori DJ della nostra zona Grazie Grazie E voglio citare anche Perché è un mio caro amico Manuel DJ Anche mio amico Anche suo amico Di San Marco dei Cavoli Salute Allora Gher Nicola E' il presidente Del forum giovanile Di San Giorgio La Molara Per fargli spiegare Com'è partita questa festa A te la parola Com'è partita questa festa Diciamo che Io Sono un po' presidente Un po' Da un po' di tempo Un po' circa un altro Il nostro intento E' sempre stato quello Di fare una festa Che raccogliesse un po' Il consenso dei giovani Ovviamente Sono un giovanile E che ci permettesse Innanzitutto di farci divertire a noi Penso che si sia dimostrato durante la serata Si sia dimostrato durante la serata Anche per quanto riguarda la partecipazione agli stand al lavoro Abbiamo visto tanti i giovani E come partita di preciso Allora Inizio agosto Ci siamo riuniti con il direttivo Abbiamo detto Grazie Mi sono stati Mi sono stati i giovani Noi Quest'anno Ci siamo dedicati solamente Allora Che cosa possiamo fare Diciamo che Si sta avvicinando la fine delle strade Cerchiamo di piangere una festa E forse ci siamo tratti un po' troppo Siamo arrivati al 14 settembre Però penso che Alla fine del tempo ci abbia accompagnato Un po' di vento Però Fortunatamente Oh Su le mani Su le mani Un attimo Ricola voglio fare un cambio Ricola voglio fare un cambio Remo vieni Un attimo ragazzi Change Aspetta c'è il change Un attimo Angelo Trotto è stato Il mio primo Iscritto al canale Oh yeah Il mio primo iscritto Granda Carutte Ragazzi c'è una persona veramente importante stasera Ma veramente importante Ah sono io? Sì Sono io la persona importante? Sì Grazie Non disturbate per favore Stiamo lavorando Volevamo Volevo Voleva Chissà Voleva il signore Volevamo avvisarvi che abbiamo creato Un nuovo format chiamato Blind Kitchen Ragazzi Rad compagno A A A Senti R Hey Music House, prima di tutto! Mad Dj, che console per noi questa sera! Per la festa di fine estate! Perchè non ti ne hai girata così? E perchè questo ci riprende meglio! E se ho girato ancora meglio? E se ho girato ancora meglio! Se tu fai così... Guarda! Ci vediamo! Bellissimo! Bellissimo! Una luce! Allora... Ragazzi... Ovviamente la festa continua ma... Io posso un po' il telefono perchè voglio godermela! E... Ovviamente... Iscrivetevi! Lasciate un bel like sotto questo video! E buonanotte! Buonanotte! E condividete... Tutti! Se potete! Vai!